Sto cazzo te lo gusta, se lo perdiamo sempre Passo dopo passo, round dopo round, la buona sempre è in alto E se questo non ti basta sai cosa fai? Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì P castle and counters and sanno alicone mi ever detenutino Temito Alessandro Accompagnato all'angolo dal maestro Massimo Morozzi Arbitra la signora Corradi Silvia Prima ripresa Subito così Dai va bene Ale Subito colpo su colpo Bravo prendi le distanze Ok Sicuro Sì Così Sì va bene ripallo va bene se lo rifai entra Eccolo la Leva e metti quando stai vicino Sì Sì Lai Sì 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 Vabbè! Vabbè! Adesso calmati, saluta, ringrazia e fa la persona normale, hai vinto, hai fatto un bellissimo match Vince per sospensione cautelare la colorosso De Nito Alessandro Allora ci siamo in rec? Oggi siamo andati molto meglio, Alessandro è salito sul ring deciso e quando sale così sul ring veramente non ce n'è per nessuno Tu come ti sei sentito oggi? Mi sono sentito abbastanza fomentato, con i tifosi da casa ancora meglio, quasi un'emozione unica E mi sono divertito, sono stato cattivo abbastanza, ditemelo voi questo Scrivetelo nei commenti, è stato cattivo abbastanza o volete qualcosa di più? Tanto vediamo che c'è anche un amico di Alessandro, oggi volevi stare all'angolo con lui La prossima volta magari facciamo in modo che ci assai pure te Comunque la prossima non puoi mancare Ci serve, il tipo ci serve Ciao ragazzi al prossimo video Dox Live La consegna ufficiale, ogni promessa è debito ragazzi Grazie 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 Grazie